Sia lodato Gesù Cristo! Sempre sia lodato! Carissimi fratelli e sorelle, il giorno è ormai declinato, ma risplende e sarà sempre più fulgida, nell'ombra della notte che sopraggiunge, la luce della fede, che riunisce tutti noi nella preghiera di lode e di ringraziamento a Dio per il dono della santità. Lui, che è la fonte di ogni santità, chiama ciascuno di noi alla comunione dei santi, cioè alla comunione di coloro che si sono comportati in maniera degna della vocazione ricevuta e che ora condividono la vita di amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Abbiamo appena ascoltato, nella breve lettura tratta dagli scritti di Padre Pio, a qual punto si spinge il vero pastore per amore dei fratelli. Un'invocazione rivolta a Dio che trova conformità con quanto vissuto dal mistico confratello. Il suo cuore di pastore è stato in piena sintonia con l'ammonimento di Pietro, che ci ha ricordato, rendendola valida anche per noi oggi, la sua delicata e ferma esortazione a coloro che erano preposti alla guida del popolo eletto. Pasciete il greggio di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo, non per forza, ma volentieri, secondo Dio. Pascere il greggio è secondo Dio, cioè secondo il suo cuore, secondo il suo cuore ricco di amore e di misericordia. Questa è stata la missione di Padre Pio. Noi, carissimi fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di qualcuno che ci indichi una strada, che accenda una luce sul nostro cammino, di qualcuno che ci parli di Gesù, di qualcuno che ci dia l'esempio. Spesso abbiamo bisogno di qualcuno che ci prenda per mano, perché la strada si fa buia, tortuosa e pericolosa. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci ricordi la fonte del bene e dell'amore. Padre Pio è stato il frate fedele alla vocazione ricevuta, il sacerdote santo, l'amico che ha colto questo bisogno dell'uomo e se ne è fatto carico. Egli oggi ricorda a ciascuno di noi chi siamo, qual è la sorgente dell'amore e della santità, e dove stiamo andando. L'esperienza spirituale del venerato confratello ci insegna che non c'è altra strada per la vera realizzazione dell'uomo se non quella di aprire il cuore alla rivelazione di Dio, rispondendo con generosità alla sua chiamata d'amore. Il nostro amato santo, nella sua risposta alla chiamata di Dio, abbracciando in maniera esemplare la vita e la regola di San Francesco, ha gridato al mondo la ragione della sua speranza. Nell'adempimento della sua missione sacerdotale, ha concretizzato in modo eroico l'esortazione dell'Apostolo Pietro, diventando ad un tempo pastore esemplare e modello del gregge, e ricevendo così la corona della gloria che non appassisce. Se dunque da una parte Padre Pio, con la coerenza della sua vita, con la sua intercessione, ci è vicino, ci accompagna, prega per noi. Dall'altra, noi, con la nostra personale risposta, dobbiamo impegnarci a rendere sempre più fertile il terreno della nostra esistenza e far sì che la personale conversione a Dio sia autentica, al punto da portare frutti di speranza, di pace, di verità, di giustizia e soprattutto di carità. Carissimi, questa lunga veglia di preghiera sia davvero un tempo favorevole di grazia per ciascuno di noi. Facciamo sì che all'impegno, al sacrificio e al cammino compiuto per raggiungere questo luogo corrisponda una disposizione generosa del cuore ad accogliere per poi far fruttificare quanto il Signore ci dirà nell'annuncio della parola, nei sacramenti che celebreremo e nella presenza orante ed intercedente della Vergine Maria e dello stesso San Pio. che ognuno allora possa ritornare a casa nella gioia grande per aver scoperto o riscoperto la bellezza della vita in Cristo e la certezza che per la sua opera di redenzione tutto è rinato a vita nuova, che la morte è vinta dalla risurrezione e dalla vita eterna e che il peccato è stato cancellato dalla misericordia infinita di Dio. Sono certo che Padre Pio dal cielo ci stia guardando per intercedere per noi come Mosè invocando presso Dio il perdono per ciascuno di noi Suoi figli. Sia lodato Gesù Cristo.